Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Siamo qui su Minecraft per farvi vedere la nuova texture Plastic Pack, come cazzo si chiama ragazzi Comunque è un nuovo pacchetto che è uscito da poco su Minecraft E ho fatto l'aggiornamento, era da un po' che non entravo Tipo forse 3 giorni, 4 giorni, per me molto Perché l'ultima volta l'avevo toccato solo e esclusivamente per entrare in Minecraft Poi il mio amico è crashato e ho mollato Quindi fate conto che in realtà sarebbe più di un mese che non gioco a Minecraft Comunque sia ragazzi, vi voglio far vedere il nuovo texture E nel frattempo darvi tutte le notizie riguardanti al video Per i 600 iscritti ragazzi, siamo già a 630 e passa Adesso non mi ricordo bene Siamo già a 630 e passa quindi mi dovrei velocizzare Fare tutta la cosa più velocemente possibile Quindi ragazzi, vi faccio vedere il texture pack con plastic pack ovviamente Per farvelo vedere Allora, per farvelo vedere ovviamente Ho preso una mappa già fatta che avete già visto Però ritrasformata, ridisegnata con questa nuova texture Che è veramente una figata assurda Comunque sia ragazzi, partiamo subito Clicchiamo B Ok, eccoci qui ragazzi Allora, come potete vedere Adesso sta nevicando ragazzi Oltre a questo c'è la lava I cubetti classici L'ossidiana Questa è ossidiana ragazzi Questa è ossidiana Questi sono i dispensari dove vengono lanciate le frecce L'ossidiana, l'oro, questo oro Vettro, lava Il pistone Che è molto figo perché è tutto ricoperto di metallo Poi ragazzi L'erba, cioè L'erba guardate come cazzo è fatta L'erba è una figata È veramente A me sembra molto più ordinato Molto più bello Proprio perché è tutto ordinato ragazzi Come potete vedere qui I legni, i legni sono cambiati Anche questo sembra tutto cioccolatoso Tipo sembra cioccolato ragazzi Sembra una girella Legno bianco Cioè veramente È una bella texture Perché In confronto a quella di Mass Effect ragazzi Che non vi ho fatto vedere Perché non mi è piaciuta tanto Cioè è bellina Però sapete Non è niente di speciale Vedete anche il letto blu Finalmente è cambiato ragazzi È un po' difficile capire queste cose Però Ragazzi Posta mettersi di impegno E si capirà tutto Questo ovviamente Come che si chiama Il tavolo da lavoro Fornace È l'abitante Ovviamente E ragazzi Boh La texture è veramente una figata Anche il Vedete La pietra Con la pietra rossa Che si trova nel Nesotomondo Tutto è una figata È molto più ordinato ragazzi È molto più bello Guardate che figata è il Creeper ragazzi Guardate che figata è il Creeper Come è fatto Ovviamente c'è questa cazzo di neve Che non mi fa capire bene Come cazzo è il Creeper Però ragazzi Basta fare così Basta andare qui velocemente Dove eravamo andati prima Entrare Entrare qui ragazzi Vedete Entrare qui Se corricarsi nel letto Farsi una bella dormita E almeno Abbiamo tutto più ordinato Ok Ovviamente continua a nevicare Vaffanculo Come non detto ragazzi Ah no perfetto Ecco Ha smesso di nevicare Vedete che figata È tutto più ordinato ragazzi E pensate che questa è lana Non è neanche Niente di speciale È lana Quindi ragazzi Ok Come sapete Se vi ricordate Questo è il mondo Quando ho fatto I 100 iscritti ragazzi E Boh Come potete vedere voi È tutto più ordinato È più bello A me piace molto L'ordine in questo caso Guardate che figata Cioè anche l'oro Il diamante Tutto è fatto perfettamente È veramente bellissimo I colori sono molto accesi Come potete vedere Lapislazzuli Cioè i colori sono più accesi È più bello È più Diciamo Pacchiano Per modo di dire E questa cosa Mi ha colpito molto Perché Io sinceramente Su Mass Effect 3 Mi sono trovato Un pelino Un bel po' Anzi Dani diciamo Molto in difficoltà Per capire Che cazzo fossero i meccanismi O meno Comunque sia ragazzi Questo è il mondo Questa è la texture pack Ve la faccio vedere ora Ve li tiro fuori 1 a 1 E nel frattempo Che tiro fuori 1 a 1 Vi dico anche Che cosa Faremo per I 600 iscritti La partita Allora Prima di tutto La partita Allora La partita si svolgerà Quindi in una partita Privata Da me fatta Da me creata E ovviamente Verrà fatta su Call of Duty Call of Duty Che ovviamente Penso che La maggior parte Di voi ce l'abbia Quindi Lo giocherò per questo Dopodichè Oltre a giocare insieme Cioè Oltre a farci una Se non ricordo mai Due partite Online Non mi avete detto Che mappe volevate giocare Quindi le scelgo io Le mappe Anzi Una mi è stata consigliata Ragazzi E Quella consigliata È stata La La Nuketown 2025 La Nuketown 2025 Quindi sarà la prima Mappa di gioco Per noi Dopodichè La seconda mappa Sarà la mia scelta Probabilmente La farò La vorrei fare Anche su standoff Perché Perché siamo Perché vorrei includere Vorrei dare la possibilità A tutti Anche quelli che non hanno il pack E ovviamente Tutti i pacchetti mappe Di Call of Duty E quindi Giocheremo Anche Su standoff Quindi saranno Queste due le partite Nuketown 2025 E standoff Scusate per la poca scelta Però Ovviamente Io ve lo dico sempre Voglio includere Tutti quanti Quindi Farò ciò Per includere Tutti quanti E magari Successivamente Non lo so Ragazzi Faremo un'altra partita Cioè Magari I 700 iscritti Che comunque sia Siamo già messi A buon punto Per arrivare a 700 iscritti Non mi avete detto Il giorno Anche questo Ragazzi Ve l'ho chiesto Io ve l'ho detto Per voi Ragazzi Per mettervi Per Per avere La massima Cioè per non avere Problematiche Nell'organizzazione Ragazzi Io ve l'ho detto Per questo Mica per altro Cioè Anche questo Dove fate stare A denti No vabbè Io ve lo dico Per me Io lo vorrei fare sabato Quindi probabilmente Sarà sabato A meno che Giù nei commenti Non riceva tante Richieste di cambio giorno Che adesso Come se fosse Cambio corso L'università O Professore E roba del genere E Vabbè comunque sia Io lo farò sabato Ragazzi Di pomeriggio Quindi Preparatevi Verso le 4 e mezza 5 Per me pomeriggio Le 4 e mezza 5 Dai 4 Dalle 4 alle 5 Ragazzi Preparatevi Tra le 4 e le 5 Potrebbe quindi Potrei collegarmi online Anche se mi collego prima Dalle 4 e le 5 Mi collegherò Aprirò Il gruppo E allora Io mi collegherò online Andrò su Call of Duty Andrò su Qualità Personalizzata La creerò bene Prima lo terrò A solo invito Ragazzi Poi la metterò A aperto E voi avrete La possibilità Di entrare Nella mia partita Appena vedete La mia iconetta Libera Per poter entrare Per poter Per fare partecipare Sessioni in corso Quindi ragazzi Cerchiamo di Cioè Spero che Siete in molti Spero che Raggiungiamo I 18 I 18 Le 18 persone Così possiamo Giocare subito Ovviamente Questo è tutto C'è via Tutti gli orari Eccetera Spero che Siete in molti A poter giocare Con me Mi farebbe Molto piacere Che voi Foste in molti Per poter giocare Tutti insieme Per poterci divertire Insieme Comunque sia Me l'avete chiesto E io giustamente L'ho voluto fare Perché io Ovviamente Faccio quello Che voi mi chiedete Cioè Se voi volete Un video Su un determinato gioco Io ve lo faccio Se ho la possibilità Ragazzi Perché non è semplice Sempre fare tutti i video Non è semplice Avere il tempo Per fare tutto Perfettamente Io cerco sempre Di offrirvi Quello che volete E niente ragazzi Questo è tutto Quindi ragazzi Sabato Verso le 4.5 4.30 a 5 Facciamo così 4.30 Qua dai 4 4.5 Del pomeriggio Quindi Dalle 16.17 Magari Mi troverete Online A quell'ora Preparatevi Perché farò la lobby E successivamente Vi inviterò Cioè Non vi inviterò Aprirò la lobby E voi avrete la possibilità Di entrare dentro Sperando che si riempia Immediatamente Così iniziamo subito Ragazzi Facciamo una bella partita E ragazzi Non so che altro dire Se non Grazie per il supporto Ulteriormente Perché vi ringrazierò sempre Per quello che state facendo per me Stiamo salendo tantissimo E io sono contentissimo Di questi traguardi Che raggiungiamo Sempre Ed esclusivamente Insieme Ragazzi Non li raggiungo da solo Ma li raggiungo insieme a voi E quindi ragazzi Oltre ai ringraziamenti Vi dico Come al solito Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Se ovviamente avete Deprezzato il mio video Ci vediamo Sabato Ci vediamo anche domani Probabilmente con un video Su Call of Duty Che dire ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao raga Ciao raga Ciao raga